Quando inizi a creare invidia vuol dire che ce la stai per fare. In che senso? Nel senso che noi siamo in Italia. L'Italia è un paese in cui quando qualcuno fa qualcosa di buono noi purtroppo non tendiamo a stimare, a dire come cazzo hai fatto, lo faccio anch'io, dimmi. No! Da noi se qualcuno fa qualcosa di buono la gente deve trovare dei motivi per abbassarlo. E l'invidia non ha a che vedere con quello che fai tu. L'invidia ha a che vedere con quello che non hanno voglia di fare gli altri. L'invidia è la vendetta degli incapaci. L'invidia è una manifestazione di inferiorità. L'invidia è una cartina di tornasole. Non puoi pensare di fare cose importanti, di crescere, di migliorare e che la gente non parli male di te. Non è possibile.